buongiorno buongiorno regione scusate mi riscoltate la schiazzetta in destra buongiorno a zio Vito buon pomeriggio a tutti quanti come andiamo tutto bene vedete che chiove si zio Vito l'aveva indovinato si si l'ho detto pure a Germano quello è venuto tranquillo bello placido ha fatto la cosa buongiorno buongiorno regione però non ha detto che diciamo che lui è venuto a casa mia ha contestato con mano la cuglia di zio Vito che è un grande satellite naturale ma ve la faccio vedere non ve la posso fare vedere perché siamo fuori orario diciamo che non è per i bambini e lui ogni tanto viene men la mano ravaglia un po' la mezza e pure ieri viene ogni tanto per sapere che tempo fa per stendere i panni poi lei ci resta un po' di più e niente che vi devo dire e chiove pare che sto mese sarà chioggia chioggia ma speriamo bene che si rivelli il sole che vi devo dire così possiamo girare possiamo andare per i paesi le contrate le città uscite andare al mare andare alle feste e a proposito di feste vi volevo ricordare che è mosse fra un po' cavigliano 14 e 15 giugno c'è la festa san Vito Martire e molti pensano che il protettore di avigliano cioè nel senso della festa patronale la Maronru Carmine no la Maronru Carmine non è santa Vito Martire infatti mia mamma dice tiene sempre santa Vito tiene santa Vito e si che di proteggeva queste persone un po' mazio Vito che si scatenano santa Vito e poi buscava forte comunque e niente allora la Maronru invece si viene dalla Madonna a Monte Carmine tipo la Maronru c'è la Madonna di Vigliano che è protettrice della Basilicata proprio dei Lucani insieme a San Gerardo Maiella che oltre santo protettore di Burrucano e anche protettore della Basilicata insomma sono tutti parenti perché come disse quella volta la festa ma che è la festa della Maronna dice sembra questa mamma la Maronna e che Maronna non lo so ma chi è ma come era negra era quella di gialla della Total no no è una cugina sono tutti parenti non puoi capire e capite sono tutte le stesse Maronna e ho detto questo volevo dire approfitta appunto che c'è la festa di Santa Vita a Vigliano e c'è aspettanti turchi i turchi l'hanno fatta a San Gerardo però io non sapevo ammetto l'ignoranza anche di Irina la sua soprattutto che c'è la sfila tra i turchi che si è bloccata negli anni 50 riprese dall'associazione San Vito Martire la sfila tra i turchi a Vigliano e c'è una tradizione di questa sfila proprio vestita da turchi poi ci sono gli sbandieratori sono 500 figuranti circa 200 sono in Avigliano e sbandieratori c'è l'associazione sbandieratori musici e insomma fanno questa sfila di 500 figuranti non è mica poca si deve scherzare e poi i balli e feste e poi vabbè c'è la funzione religiosa è 14 quindi c'è la festa musica balla e poi e che bella questa cosa qua questa associazione l'associazione culturale San Vito che ha ripreso da un po' di anni a come dire a smuovere anche il paese e queste feste bisogna onorarle perché uno bisogna far girare l'economia ma non ci sono soldi e sì ma se manca li cacciamo giusto per andare un po' la festa dare un obolo a fare una cosa manca girano manca se riprende l'economia questo vale per tutto anche per il commercio e poi è bello perché queste associazioni e ce la mettono tutto come l'ha fatta a San Gerard adesso che fanno la quest cercano soldi e perché è giusto che si faccia festa e si onori il santo patrono locale di ogni posto quindi dobbiamo andare e poi Avigliano fa tanta cosa poi faranno anche la sagra del baccalà più in lano adesso non guardate a me baccalà e non so baccalà e non so baccalà e poi ci sta pure fanno tante cose buone Irina mi ha detto amore e tu amore porta a me Avigliano che io prendo Tarallo beh Irina prepara la sponda che non c'è bisogno di chiamare Avigliano ha detto però ha detto no Tarallo con un aspero vabbè lasciamo vabbè vabbè ammo pure a prendere un biscotto a prendere un po' ci maniamo qua beh allora saluta il vostro cagliardo e tosto in casa vostra a tutti quanti voi da Zio Vito beh ciao ciao e buone feste patronali in giro per la Basilicata ciao 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 ciao